Amici di Ferral Pissalò TV, buongiorno ben ritrovati, nuovo format Cuor di Leoni per entrare nel vivo nel cuore anche dello spogliatoio andiamo a conoscere, vogliamo andare a conoscere i protagonisti verde e blu, abbiamo qui con noi oggi il primo di questo nuovo format Davide Balestrero, ciao Bale, come stai innanzitutto? Ci ha detto prima Telecamere Spente che oggi ha fatto un allenamento bello intenso, bello tosto, quindi grazie per essere qui con noi, un nuovo format che vuole appunto raccontare, entrare nel cuore di voi protagonisti, non solo ovviamente della vita sportiva ma anche extracalcistica e iniziamo proprio da i tuoi albori, quindi tu hai un grande passato, sei arrivato tra i professionisti tra virgolette tardi, sei ancora giovane ovviamente classe 95, hai fatto tutta la gavetta, assolutamente io sono molto più vecchio di te per cui ne hai ancora di pappa da mangiare, però ti sei fatto una bella gavetta importante che ti ha portato ad arrivare comunque giovane a giocare tra i professionisti, quindi raccontaci un po' i tuoi esordi e come sei arrivato qua. È stato un bel percorso perché sono partito dal paese mio di nascita che è Renzano, ho fatto tutta la trafila al settore giovanile là, è un paese di 12 mila abitanti, molto bello tra l'altro. Consigliamo di andare a visitare Renzano? Ho fatto tutta la trafila, sono arrivato in prima squadra in eccellenza a 16 anni e ho fatto due anni di eccellenza tra Renzano e Sestrese, è un paese lì vicino per poi salire in Serie D dove ho fatto tre anni di Serie D e sono riuscito ad arrivare tra i professionisti poi a Monopoli, giù in Puglia, quindi poi lì è scomussolata la vita perché fino a quel punto io non avevo mai pensato di giocare a calcio per mestiere, giocavo con molto impegno però... Rimaneva più una passione quasi ancora. Sì, seguivo una passione che mi portavo da quando ero bambino con la famiglia che mi seguiva ovunque però non avevo mai, forse neanche creduto di poter arrivare tra i professionisti, quindi poi arrivare tra i professionisti, fare un salto, passare da Renzano, finire a Monopoli in Puglia a mille passi chilometri da casa è stato un bel passaggio che però ha segnato anche un po' uno spartiacque anche nella mia testa, nella mia mentalità e mi ha fatto capire che volendo si poteva e si può cercare di fare sempre qualcosa di meglio. Assolutamente, poi dopo ovviamente Monopoli arriva l'esperienza forse per te più grande, diciamo più sentita che quella dell'anno col Matelica, l'anno scorso è stato un anno meraviglioso sotto molti aspetti perché la squadra era una neopromossa, quindi con poca esperienza tra i professionisti, con tantissimo entusiasmo come tutte le neopromosse e un ambiente molto familiare, amichevole, fin da subito si è creato anche un'alchimia tra noi ragazzi, società e tutto il contorno che ci ha permesso di fare risultati anche sorprendenti, assolutamente, abbiamo fatto un anno magico. Se dovessi chiederti qual è l'aspetto che più differenzia un gruppo come Matelica, come voi al Matelica che arrivavate primo anno tra i professionisti, rispetto a un gruppo invece come Feral Pissalò che ormai è una realtà solida diciamo nella categoria. Allora parlando di gruppo spogliatoio è uno spogliatoio differente nel senso che l'anno scorso noi eravamo tutti giovani entusiasti di fare la categoria, chi non l'aveva mai fatta, chi l'aveva fatta e veniva da una delusione come me che ero retrocesso l'anno prima e quindi chi doveva rilanciarsi e chi voleva lanciarsi e chi rilanciarsi per lanciarsi perché comunque era per tutti un trampolino importante e c'era un entusiasmo galattico proprio veniva al campo ed era divertente stare. Qua è un altro contesto, c'è molto più, è un contesto più consolidato, anche lo spogliatoio è fatto prevalentemente di gli over, i vecchi, sono giocatori affermati che hanno carriere importantissime e i giovani comunque sono giovani che escono, si trovano giovanili importanti, hanno già una struttura mentale che vuol portare il percorso in alto con una mentalità già consolidata. La nostra l'anno scorso era una mentalità più emotiva, anche più divertente. Certo, non avevate niente da perdere comunque da un altro lato. La nostra cosa era per noi un obiettivo, cioè giornalmente noi quel che guadagnavamo era qualcosa di bellissimo, qua devi essere un martello, qua devi vincere per vincere per vincere per vincere e questa è un po' la differenza secondo me rispetto all'anno scorso. Assolutamente. Due contesti bellissimi però tanto diversi. Assolutamente, contesti che l'anno scorso ti hanno fatto vivere tante emozioni, sei riuscito a sbloccarti anche quest'anno, anzi ti sei sbloccato alla grande perché è arrivata anche la doppietta contro la Pergolettese, sei a quota 3 gol, noi abbiamo ancora negli occhi ovviamente il gol, i due gol che ci feci l'anno scorso all'andata, 3-1 in casa del Mattelica. Tra l'altro la telecronaca non era simile a quella di quest'anno. Assolutamente no, ti ringrazio per questa marchetta. ma soprattutto da te vorremmo sapere un tuo gol in particolare che è quello arrivato al 98esimo in una partita bellissima contro il Cesena che vi ha permesso di raggiungere l'ennesimo risultato storico. Che ricordi hai di quel momento così concitato? È un'emozione gigantesca. In questo momento ogni volta che ne parlo mi vengono i brividi perché penso sia il sogno di tutti, una partita per noi importantissima perché comunque ripeto era un altro obiettivo che aveva raggiunto senza tante speranze, nel senso che siamo arrivati lì perché ce lo siamo guadagnati ma non pensavamo neanche di poterci arrivare. Una partita tra l'altro ben giocata, 2-2 al 95esimo, quindi c'era gente che piangeva, mi ricordo c'era Kevin Magri al centrocampo che piangeva, ero lì in lacrimi disperato, c'era invece Malik in Baillet, diceva dai dai ce l'è ancora una, ce l'è ancora una, dicevo dai finita, dai finita, parte sto lancio, palla lunga, dici buon finita. Colpo di testa di Leonetti che, li voglio bene ma è alto 1,60m, colpo di testa è andato in cielo, colpo di testa, colpo di testa è arrivata lì, di sinistro in controbalzo su uno spazzetto così, gol, io per mezz'ora non ho capito più niente. Infatti ci ricordiamo tutte le immagini a turbinio attorno a te. fuori di testa e poi, no, l'emozione gigantesca, veramente bello, poi è il sogno di un bambino secondo me quello lì, perché fare un gol così importante, così... Contro una squadra comunque blasonata come Cesena, assolutamente, in un contesto anche come quello di... Peccato che rapporti chiuse perché sarebbe stata ancora più divertente. Assolutamente. Però è stata l'apoteosi secondo me di un anno, ripeto, magico di tutti, personalmente molto positivo e ricordo indelebili. che devono rimanere tali. Parliamo... Come anche in due gol a Feralpi, sono molto contenti di aver fatto. Giustamente, un'altra squadra importante, poi era la seconda di campionato se non erro, per cui, per cui, forse non mi ricordo se avevate vinto la prima di campionato... Ho vinto Trieste la prima e poi abbiamo vinto con la Feralpi... Ah, avevate fatto la doppietta a Trieste in a Feralpi, quindi una partenza tra professionisti col botto. Esatto, infatti lo ricordo spesso a uno spogliatoio, c'è una foto che c'è in via insimolata mentre sto facendo gol, intanto io la ricordo. Parliamo un po' del Davide Balestrero invece in privato, raccontaci un po' dove abiti qua a Salò, se sei con qualcuno, se sei qui da solo, abiti qua nelle vicinanze, cosa hai studiato, cosa studi. Inizio del Benaco, un ridente paesino qua vicino a Salò ovviamente, perché è una frazione molto piacevole, molto piacevole, residenziale, tranquilla, ci sta bene. Sono da solo con la fidanzata che ogni tanto viene e non viene perché lei fa la magistrale a Trieste, quindi fa un po' la spola, intanto vengono anche i miei, famiglia, nonna, una volta è venuta mia nonna, vengono a trovarmi. Diciamo che comunque non sei mai solo tra una cosa e l'altra. E se non vengono loro ho spagnoli e mi lasciano, quindi qualcuno c'è sempre. Ho studiato leccio scientifico, diplomato scientifico e adesso sto tentando di portare avanti degli studi un po' particolari, che l'università è gastronomia, ospitalità e territori, non chiedemi perché l'ho iniziata, perché certe volte non lo so neanche io, però perché mi piace la bella cucina, poi è profino eologico, quindi saper abbinare i cibi col vino è una cosa che mi interessa molto, se non che devo trovare un po' più di stimolo. Chissà poi se un giorno a questo punto i ragazzi della Ferralpistolo andranno a mangiare fra dieci anni nel tuo ristorante aperto proprio San Felice del Benaco, quando ci saranno i doppi, il pranzo si farà, da Davide Balestrero. Obiettivi per il futuro prossimo e anteriore? Allora, obiettivi per il futuro? Bella domanda, perché personali, io spero sempre di… quando sono arrivato qui l'obiettivo mio era di riuscire a ricavare più spazio possibile, perché era un contesto nuovo, come abbiamo detto prima, e diverso, quindi qua è uno spogliatoio dove c'è tanta concorrenza, se sbagli mezza partita rischi di stare fuori per un po', e quindi il mio obiettivo è riuscire a fare più presenze possibili e di un certo livello. I gol mi fa sempre piacere farli, quindi più ne faccio meglio è, l'obiettivo sarebbe migliorare quelli dell'anno scorso. Che ne hai fatti sei, se non ricordo male. Quello nei play-off, sette, purtroppo non li conta quelli nei play-off. Per noi sono sette comunque, quindi l'obiettivo stagionale a superare quest'anno è sette. Serebbe sette gol, cioè. Perfetto. E poi a livello di squadra, non lo dico. Non lo diciamo, vedremo, guardiamo partita dopo partita, adesso c'è un finale di stagione importante. Adesso voglio dire l'altro perché stiamo facendo un filotto che sta anche passando un po' in secondo piano perché davanti stanno facendo meglio di noi, però stiamo facendo qualcosa di impressionante, secondo me. Merito del lavoro quotidiano, settimanale di tutti, perché chi gioca, chi non gioca, io stesso comunque adesso vengo da una settimana positiva dopo un periodo in cui ho giocato un po' meno, però se riesci a mantenere una mentalità importante in settimana a lavorare bene, quando poi tocca te ti fai trovare pronto e te la mentalità di questo spogliatore, perché chi gioca si fa sempre trovare pronto. Assolutamente, lo dimostrano infatti i 12 risultati consecutivi inanellati fino a questo momento. Chiediamo Davide con una promessa che ti chiediamo di fare, poi vedremo perché voi adesso non lo vedete Davide ai capelli raccolti, ma ha una chioma fluente che ha esaltato anche noi radiocronisti di Radio LDG. Sei un po' il nostro Sansone, tu la divinità biblica la conoscerai, che traeva la sua forza sovraumana appunto dai tuoi capelli. La promessa che ti vogliamo far fare è quella, come fece anche Mauro German Camoranesi, di tagliarti in campo i capelli qualora ci fosse la promozione in Serie B. Più che volentieri. Quindi ce l'abbiamo registrato Davide, non ti puoi più tornare indietro, ti taglierei i capelli qualora, ovviamente vale anche per l'anno prossimo, non solo quest'anno, non credere, se non dovessimo centrare l'obiettivo, ovviamente è un biennale, io e te firmiamo un contratto biennale. Davide grazie mille, sei stato gentilissimo e simpaticissimo, direi che come prima puntata di Cuor di Leone abbiamo iniziato proprio con il botto, se vuoi fare un saluto anche tu ai nostri amici di Feralpi Salò TV. Ciao a tutti, mi raccomando, vi aspettiamo numerosi per i prossimi impegni in casa. Grazie a tutti e sempre forza, Leone del Garda! Grazie a tutti i nostri amici.